Si schiera praticamente a specchio il capistrello nella trasferta di Miglianico, 3-5-2 per i padroni di casa, fuori inizialmente Polisena, Orta e Di Muzio a costituire il reparto avanzato Guerra, partner d'attacco di Aquino per Granata. Avvio fulminante con Orta che fallisce il gol del vantaggio dopo il calcio di punizione indirizzato sulla barriera da Martelli, vantaggio capistrellano sull'asse Fantauzzi, Aquino con quest'ultimo che segna di testa chirurgico. Il centravanti rovetano al tredicesimo centro stagionale ma neanche il tempo di esultare che il Miglianico pareggia approfittando di uno svarione difensivo Manuel Di Muzio, sigla il gol dell'1-1, gara che torna in equilibrio. Fase favorevole giallo-blu di Girolamo a salvare sulla conclusione improvvisa ad opera di Di Crescenzo il mancino volante di Orta che non inquadra lo specchio. C'è spazio anche per lo spunto di Fantauzzi per Guerra in pieno recupero prima dell'intervallo e reclama il capistrello. Nella ripresa per un presunto tocco di mano di Battista entra Polisena in luogo di Di Crescenzo e ha subito il pallone del 2-1, conclusione masticata. Sul secondo palo quindi l'episodio del calcio di rigore formidabile di Girolamo su Antonio Polisena venditti che gli sbarra la strada in maniera fallosa. Calcio di rigore assegnato Battista realizza il 2-1 stavolta. Di Girolamo non può nulla, mette in crisi da solo tutta la difesa capistrellana Polisena scombinata. Poi Mario Orta che prova a piazzare il colpo del KO, non c'è più tempo, vince il Miglianico in rimonta al fratelli Ciavatta capistrello sconfitto. 2-1 Allora con Fabio Iodice è arrivata questa sconfitta peraltro in rimonta, quanto brucia? Brucia perché siamo andati in vantaggio, poi dopo 30 secondi abbiamo preso il gol, penso regalato da parte nostra perché non puoi prendere quei gol. Però è chiaro che lo sapevamo di giocare su un campo difficile, quindi ci può stare anche se secondo me alla fine è una partita più da pareggio. Quindi abbiamo avuto due ingenità sia sul primo sia sul secondo gol, poi la partita è stata molto equilibrata, abbiamo avuto noi una grossa occasione al primo tempo, loro l'hanno avuta prima del secondo gol, quindi poi credo che alla fine la partita sia stata una partita equilibrata. Con Polisena che da quando è entrato ha praticamente spaccato la partita. Buonasera, oggi è stata una partita veramente dura, questa vittoria è in merito del gruppo perché vincere con una signora squadra fino alla fine non abbiamo mollato niente, fondamentali questi tre punti. Il motivo per il quale sei entrato solo nel secondo tempo? Siamo tutti bene, il mister ha avuto questa strategia, infatti me l'aveva detto prima della partita che sarei entrato a cambiare le sorti della partita, per fortuna è andato tutto come doveva andare e abbiamo ottenuto questi tre punti.